Se vuoi saperne di più su Buda, che tanti anni fa si unì a Pesht tramite un ponte, questo è il video per te. Budapest è una delle città europee perfette se si vuole una pausa dai ritmi del lavoro e servono necessariamente un paio di giorni per staccare completamente, senza ansia di dover vedere tutte le attrazioni e fare invece un weekend di sonno da recuperare, cibo e terme. Siamo venuti qui perché è uno dei pochi posti che nonostante quasi mille recensioni ha 5 su 5, non 4 e mezzo. Ok, col tuo voto puoi rovinare la media perfetta, però aspetta, non farlo. Per me si sono meritati il 5 con questi Lego. Per me si sono meritati, non farlo. E va bene meteo, se tu fai nevicare noi possiamo risponderti solo in un modo. Oh guarda, ci siamo anche io e te. Questo è come l'aurora boreale, è rarissimo trovare neve e piscina calda. Per mangiare o anche solo bere qualcosa ho obbligo di venire nel quartiere ebraico. Spesso si fa la fila per entrare ma altrettanto spesso ne vale la pena. Sapori di Israele diciamo che è un'anteprima del nostro prossimo viaggio. Visti questi piatti dai sapori inaspettati, un bel mazzeltop, letteralmente buona fortuna, ce lo meritiamo no? Allora questo non lo mettiamo.